E' stata una bella puntata densa, quella che c'è stata ieri 6 dicembre 2021 del grande fratello VIP. Una puntata con tanti colpi di scena se vogliamo, no? Innanzitutto vediamo chi è stata l'eliminata di questa 25esima puntata. Bene, è stata la bella e brava Patrizia Pellegrino. E ci sono stati gli immuni che vi ricordo sono stati Cagliari Cerelli, Aldo Montano, Giacomo Ultis e Valeria Marini. Adriana va a dare l'immunità a Lulu, mentre quella di Sonia va a Gian Maria. E chi sono i nominati invece di questa puntata sono molti. Adesso ve li elencherò uno ad uno e sono una fattispecie concreta. Sono in totale 6 le persone nominate del grande fratello VIP. Dunque, questo sarebbe quanto o meglio a quanto. Iscrivetevi al canale e commentate. Patrizia Pellegrino viene eliminata. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando. Ciao da Ariandro, Nalato Italiano.